Buonasera, con l'avvicinarsi delle elezioni regionali cresce l'attenzione politica mentre si stanno definendo strategie ed alleanze. Senza ripensamenti la Lega Nord prosegue con la sua campagna a sostegno del proprio candidato alla presidenza della regione Edoardo Rixi che ha fatto visita anche ad Imperia. Vediamo. Edoardo Rixi, campagna elettorale nel pieno, un giro anche in provincia di Imperia, questa candidatura della Lega Nord resiste e vuole incontrare il territorio soprattutto. Noi vogliamo girare il territorio, l'abbiamo girato fuori dalla campagna elettorale, abbiamo portato molte istanze dalla provincia di Imperia anche all'attenzione in ambito regionale sia sulle infrastrutture, i problemi dell'agricoltura, questa immuagricola che sta distruggendo il nostro introterra, il problema della floricoltura e anche quello del turismo, visto che gli ultimi cinque anni hanno segnato gli anni peggiori sugli investimenti turistici in questa regione. Calcolate che la Giunta Burlanda è riuscita a spendere solo l'1% del bilancio regionale sul turismo, hanno investito più nel mantenimento dei costi del Consiglio regionale che negli investimenti di tutto il turismo sull'ambito regionale. Quindi secondo noi la provincia di Imperia è una provincia che deve investire molto sul suo introterra e sulla costa in ambito sia turistico che rivalorizzazione di quelle che sono le produzioni locali e anche le peculiarità della nostra regione. Noi abbiamo una terra bellissima, una terra dove si può venire in vacanza d'estate e d'inverno, se avesse delle infrastrutture adeguate e avesse la capacità anche di aiutare chi lavora sul territorio invece di mettergli sempre dei vincoli forse risolveremo molti problemi, primo fra cui il fatto che molti giovani lasciano questa terra perché non sanno come fare lavorare. Ecco, l'Xile sta incontrando un po' tutte le categorie, qui in Imperia anche gli ambulanti, c'è insomma uno scambio di idee, cercare di capire anche dal basso quali sono le necessità. Beh certo, credo che oggi la prima necessità di una famiglia sia quella di avere un reddito, di poter continuare a svolgere un'attività che magari è un'attività che da tantissimi anni sta svolgendo alla famiglia e soprattutto il fatto di vedere un futuro in questa regione. Quindi dobbiamo potenziare e migliorare i servizi, prima tra tutti la sanità, di cui si è parlato in molti investimenti, in realtà non ce ne sono stati, sono stati tagliati i servizi soprattutto sulle zone non servite direttamente dagli ospedali e poi abbiamo un problema grandissimo che è quello dell'accesso anche ai servizi, alle case da parte di quegli italiani che non arrivano più a fine mese e che vorrebbero non trovarsi sempre ultimi rispetto a quelli che sbarcano in questo paese, perché iniziamo a fare la solidarietà prima di tutto con i nostri cittadini, con quelli che ha sempre prodotto, pagato le tasse e magari hanno mantenuto anche gli stessi enti pubblici che a volte si dimenticano di loro. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha annunciato che non si candiderà per la Lega Nord alle prossime elezioni regionali. L'esponente del partito del Carroccio lamenta infatti l'assenza di programmi e spostamenti di persone da uno schieramento all'altro. Chiappori ha così precisato di voler dedicare l'ultimo mandato della sua carriera politica al comune di Diano Marina. Sono stati presentati i lavori di adeguamento della strada provinciale 29 nei pressi di Cadibona nel Savonese. Gli interventi commissionati dalla provincia sono stati finanziati con 1 milione 700 mila euro provenienti da fondi regionali e dei comuni di Savona e Quigliano per 30 mila euro. L'operazione iniziata nel novembre del 2013 finirà entro il prossimo mese di settembre. L'intervento lungo la strada provinciale 29 per realizzare il nuovo svincolo che sostituirà l'attuale intersezione tra la strada e via Polliero migliorerà la sicurezza stradale della zona. Tornerà a riunirsi domani sera con inizio dei lavori alle ore 19.30 al Consiglio Comunale di Sanremo all'ordine del giorno dopo la trattazione in apertura delle interpellanze e la discussione sul regolamento per la gestione delle entrate tributarie e sull'affidamento in house dei servizi di igiene urbana. La Giunta della Regione Liguria ha adottato il nuovo sistema regionale di allertamento. Alla denominazione numerica delle allerte si sostituisce una scala cromatica che identifica la criticità e il livello che passa da 2 a 3. Con il nuovo sistema i tre scenari vengono distinti con i tre colori giallo, arancione e rosso così come già in uso in altre regioni d'Italia. Viene poi introdotta l'allerta temporali. Infine si sta approfondendo il tema dell'estensione del sistema di allertamento anche alla possibilità di innesco frane in collaborazione con il CNR. Grande giornata di sport domani ad Imperia. L'Isac ha infatti organizzato una serie di eventi tra il palazzetto dello sport, la piscina comunale e il bocciodromo. L'obiettivo è quello di trascorrere una giornata in allegria, prendosi sempre di più verso la città. Sentiamo. Presidente si avvicina a questa giornata, una giornata sicuramente molto importante. Sì, una giornata veramente importante perché ricopre per me, essendo neopresidente, una prima manifestazione che spero abbia tanto successo e lo avrà senz'altro visto come lavorano i miei collaboratori. Una manifestazione si svolgerà nella giornata del 2 aprile perché è la data più vicina alla giornata dell'autismo mondiale e quindi già questo vuole essere significativo. Chiaramente è stata appoggiata e sponsorizzata dal Comune di Imperia, l'assessorato al turismo, agli sport e manifestazioni, l'assessorato alle assistenti sociali e che dire ancora, è una manifestazione che si svolge nella location più importante di questo momento, visto che ieri la nazionale italiana ha battuto l'Ungheria, nella giornata subito dopo, diciamo, atleti altrettanto importanti se non più importanti, probabilmente scenderanno nella stessa vasca avendo gli stessi successi. Una giornata intensa che quindi ha necessitato di molti enti nella organizzazione e nella collaborazione. Sì, in effetti da soli non saremo riusciti a organizzare un evento così complesso. Abbiamo bisogno di utilizzare diverse strutture imperiesi, dal palazzetto dello sport alla piscina alla bocciofile e quindi ci siamo dovuti appoggiare con grande felicità e grande collaborazione a enti territoriali e non solo. Faccio riferimento al Comitato San Giacomo per quanto riguarda la bocciofila, la rarinantes per la piscina e saranno presenti anche le federazioni italiane a calciovalilla per disabili con il suo presidente il signor Bonanno e la federazione il tennis Sgarlenda che ci ospita durante tutto l'anno per gli allenamenti dei nostri ragazzi con la federazione italiana tennis per disabili, il CONI di Imperia che ha voluto anche lui far parte di questa squadra e quindi ha dato il patrocinio a questa manifestazione e anche altri sponsor che hanno voluto fornire essere presenti e fornirci dei gadget come le medaglie e le magliette che indosseranno i nostri ragazzi. Un evento che vuole rappresentare anche un po' un modo di aprirsi. Sì, è fondamentale per l'ISAC la cultura dell'integrazione delle persone più fragili. La riabilitazione in generale che è il compito istituzionale dell'ente è quella di non ha finalizzata a se stessa, ha la finalità di poter dare quegli strumenti ai nostri ragazzi per poter vivere una vita più che dignitosa, più che felice e soprattutto di potersi integrare nel tessuto cittadino. L'ISAC non è la prima volta che organizza degli eventi del genere, lo sport è il primo anno che vuole avvicinarsi attraverso lo sport anche a un altro mondo. E abbiamo avuto, è stato bellissimo questo successo e questa passione che hanno voluto dimostrarci tutti questi enti che hanno collaborato con noi, in primis il Comune ma tutti gli altri che sono entusiasti, comprese le scuole, molte scuole parteciperanno attivamente e faranno il tifo dagli spalti per i nostri ragazzi, non solo perché verranno da Savona, verranno da altri centri e sarà veramente una bella giornata di sport e di felicità. Possiamo dire che questa sia la conclusione, il risultato di un progetto? Sì, in effetti questo è un progetto che portiamo avanti da settembre, abbiamo cominciato anzi con le bocce l'anno scorso ancora e i ragazzi hanno incominciato ad approcciarsi allo sport in maniera sempre più consapevole, siamo partiti dalle terapie che sono quelle che già in ISAC facevamo negli anni precedenti, quindi la piscina, il tennis, per poi aggiungere delle discipline nuove e sperimentali come le bocce e ad esempio il calcio balilla. Questa giornata per noi vuole dare la possibilità ai nostri ragazzi di essere degli atleti a tutto tondo quel giorno e vogliamo dare risalto a tutto questo lavoro, un lavoro fatto dai ragazzi e dai tecnici che ci hanno supportato e che si sono dati disponibili sotto tutti i punti di vista. La pratica sportiva per noi assume un ruolo importante rispetto al discorso della motivazione. Bisogna sempre stuzzicare un po' la motivazione nei ragazzi, soprattutto nei giovani adulti e anche con quelli che sono magari un po' più avanti nell'età perché tendono magari a chiudersi in se stessi e dare la possibilità attraverso lo sport di fare delle nuove esperienze può dare a noi dei margini riabilitativi e abilitativi molto grandi e per questo siamo partiti con questo progetto. Si sono concluse a Pieve di Tecco le iniziative organizzate dall'AMPI di Albenga e dall'Istituto Storico della Resistenza di Imperia in occasione del settantesimo anniversario della fucilazione di Roberto Di Ferro, giovane partigiano di 14 anni conosciuto con il nome di Balletta. Tre giorni intensi di appuntamenti per ricordare un importante momento storico del nostro territorio. Il prefetto Silvano Tizzano sta seguendo queste cerimonie, queste celebrazioni che sono volte a ricordare ma anche a trasmettere ai giovani. C'è un coinvolgimento dei giovani che è forse la speranza maggiore? Sì, direi che c'è un filo conduttore in queste cerimonie, molte delle quali sono partecipato. C'è questo filo conduttore di richiamare alla memoria eventi importanti, episodi significativi come quello che si commemora questa mattina. Ma così anche in occasione della presentazione del libro sulla Prima Guerra, anche la stessa Shoah. Sono tutti momenti in cui la popolazione, speriamo soprattutto quella più giovane, viene proprio chiamata all'importanza della memoria. Che è fondamentale perché insomma soltanto in questa maniera è possibile fissare negli occhi, ecco, nella mente di chi ascolta e ripeto, sperando che sia soprattutto un pubblico giovane, quelle che sono delle esperienze significative, nate magari anche per casualità, per entusiasmo, magari senza motivazioni particolarmente politiche, insomma, ma spesso anche sull'onda proprio dell'avventurosità giovanile, che però hanno rappresentato un segnale importante che poi fondamentalmente, non ci dimentichiamo, che hanno portato a raggiungere quei principi di democrazia e proprio di senso di appartenenza che oggi, per fortuna, ci sono ancora e che bisogna sempre coltivare. Una presenza importante è quella delle istituzioni, anche di tutti i responsabili vertici delle forze armate, delle forze dell'ordine, un segno anche per i giovani, identificare attraverso quelle istituzioni anche i valori. Istituzioni che, e lo vediamo anche direttamente, come nel caso suo, sono sicuramente simbolo, riferimento, ma sanno anche essere meno compassate di un tempo, meno rigide, molto più fra la gente, con la gente. Certo, certo, questo è fondamentale. Io trovo che è finito il tempo, insomma, di star chiusi nei palazzi. È importante che le istituzioni siano presenti sul territorio, ma non soltanto con delle affermazioni di principio, ma proprio nei comportamenti, quindi nel far sentire la maggiore vicinanza possibile alle collettività, sia attraverso appunto la partecipazione ad occasioni come queste, sia anche nell'affrontare con gli amministratori quelle che sono poi, diciamo, le problematiche magari più importanti di una popolazione. Quindi è fondamentale questa presenza, è fondamentale che ci sia una partecipazione anche allargata, possibilmente completa, di tutti gli appartenenti alle istituzioni in genere, alle forze dell'ordine in particolare, perché comunque rappresentano il riferimento più diretto del cittadino sul territorio. Qui c'è una fotografia che ritrae Baletta e con il piedistallo forse, anzi, sicuramente è troppo grande, perché Baletta era un ragazzino, aveva 14 anni, era un bambino pieno di ideali e oggi è stato ricordato, qui c'è il sindaco Alessandro Alessandri di Pieve di Teco, dai pievesi e non solo, c'è stato un momento di condivisione, anche perché Baletta arrivava dal Benga, ma era originario del Piemonte, quindi insomma, tante persone oggi sono arrivate qui per ricordare questo momento storico. Sì, nella sua breve vita Roberto Di Ferro aveva già viaggiato molto da Malvicino, era arrivato al Benga per poi venire a morire qui a Pieve di Teco. Oggi l'abbiamo voluto ricordare, come facciamo tutti gli anni, in maniera un po' più, in grande, in maniera un po' più compiuta, perché proprio in questi momenti dove il mondo sta subendo tutte queste angherie dai terroristi dell'ISIS piuttosto che da quelli di Bokaram, l'immortalità dell'esempio di Roberto Baletta diventa un dovere per la nostra memoria e per il nostro futuro. Un dovere, l'immortalità dell'esempio, tralasciando revisionismi, tralasciando situazioni di un periodo che è stato brutto per tutti, questo lo dobbiamo dire, con situazioni purtroppo terribili. Il periodo dal 43 al 45 è stato forse il periodo più duro della storia, ma non della storia moderna, ma della storia d'Italia da quando si è costituita. Un momento in cui tutto era molto confuso e non si capiva, forse qualcuno in epoca non capiva qual era la parte giusta e qual era la parte sbagliata. Oggi noi possiamo dire, proprio perché lo possiamo dire, qual era la parte giusta e possiamo anche dire un'altra cosa, che questa cosa della resistenza deve essere un valore per tutti, non per una parte, ma per tutti, perché per tutti gli italiani e quindi è un momento in cui dobbiamo ritrovare l'unità di questo paese per ripartire in questo momento di grande difficoltà. Questo pomeriggio a Bordighera Alta una pensionata di 78 anni è stata trovata senza vita dalla figlia che non la sentiva da tempo ed ha subito alertato i soccorsi. I medici del 118 e i vigili del fuoco quando hanno aperto la porta di casa l'hanno trovata ormai priva di vita in bagno. L'anziana viveva sola e gli uomini del 115 hanno dovuto forzare la porta per entrare nell'alloggio dopo l'allarme lanciato appunto dalla figlia. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per le formalità di rito e per chiarire le cause della sua morte. Incidente sul lavoro questa mattina al porto di Savona sfortunato protagonista un uomo che è caduto da un muletto battendo violentemente la schiena durante il proprio turno di lavoro. Soccorso dal personale medico è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in codice giallo. Le sue condizioni in ogni caso non sembrano essere particolarmente gravi. È stato rimosso a 20 miglia un insediamento abitativo abusivo in via tenda nei pressi del lungoroia nella zona sottostante il cavalcavia della statale 20. Lo sgombero si è svolto in seguito alla segnalazione della polizia locale e l'azione ha comportato la rimozione di circa 30 quintali di rifiuti vari tra cui ingombranti come letti, mobili o superlettili e materiale vario compresi vestiti usati e abbandonati. Dalla Regione Liguria sono in arrivo 4 nuovi bandi per un importo complessivo di 800.000 euro a sostegno degli spettacoli dal vivo festival ed eventi che promuovono il territorio. I bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni sul bollettino ufficiale della Regione Liguria In un momento economico ancora difficile l'apertura di un supermercato diventa una notizia importante anche per le ricadute occupazionali che comporta. È accaduto a Toirano in provincia di Savona dove è stato inaugurato un nuovo supermercato Conad in via dell'Innovazione 6 vicino al casello autostradale di Borghetto Santo Spirito. Vediamo. Taglio del nastro per il nuovo Conad di Toirano situato in una posizione sia panoramica con vista sul mare ma soprattutto strategica comodo all'autostrada e per chi arriva dalla costa. Posizione strategica diciamo che siamo all'uscita dall'autostrada di Borghetto siamo al confine tra Toirano e Borghetto ma siamo soprattutto in una posizione a mio parere fantastica perché riusciamo a dare un servizio molto importante di qualità e convenienza sia ai residenti che di solito sono quelli che si lamentano dei negozi di vicinato che sono cari eccetera. Io credo che invece queste strutture possano tranquillamente colmare il gap di convenienza ma essere anche integrate ai negozi di vicinato nel senso che ognuno fa la sua gara e soprattutto togliendo un po' delle polemiche che ogni tanto vengono fuori quando si aprono questi centri riuscire a sviluppare un tema che è quello dell'integrazione. In un primo tempo il centro commerciale ospiterà soltanto attività alimentari mentre dopo il periodo estivo è in previsione l'arrivo di nuovi negozi inserendosi così nel tessuto economico della zona. Siamo in grado di offrire tutta una serie di servizi particolari per i nostri clienti tutto quello che riguarda il marchio Conad ossia la garanzia sulla qualità e la freschetta dei prodotti e anche la convenienza quindi abbiamo un ortofrutta molto importante che quotidianamente consente un risparmio ai nostri clienti fino ad arrivare al reparto della panetteria dove lavoriamo con dei fornitori locali quindi sia a livello di panettieri quindi di fornai ma anche a livello di pasticcieri. Abbiamo poi il servizio della pescheria anche in questo caso il pesce arriva tutti i giorni dal mercato di Savona e fino ad arrivare al regno della macelleria dove il mio socio Claudio è la fada padrone veramente vedrete che è in grado di stupirvi e di accontentarvi in tutti i modi. Un nuovo punto vendita insomma che aprirà anche nuove opportunità occupazionali sul territorio. Dal 2011 quindi un percorso difficile con diversi interlocutori istituzionali la regione in particolare che ha dovuto approvare la variante urbanistica abbiamo lavorato comunque negli ultimi tempi a ritmo serrato e siamo riusciti a contenere e a rispettare i termini. Questa mattina il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri in compagnia dell'assessore al turismo Daniela Cassini ha incontrato a Roma Giancarlo Leone direttore di Rai 1 e Claudio Fasulo capo struttura Rai 1. In questo primo incontro sono stati stabiliti i tempi per la messa in onda della nuova trasmissione televisiva in cui verranno selezionati i giovani artisti che parteciperanno al festival di Sanremo compresi quelli che provengono da Area Sanremo. È stata individuata la settimana tra il 27 novembre e il 4 dicembre. Nei prossimi incontri si procederà a stabilire la serata durante la quale sarà trasmessa la finale. Si è rinnovato ieri in occasione della Domenica delle Palme l'ommaggio al Vaticano dei Parmureli le foglie di palme intrecciate provenienti dalla riviera Ligure 2.000 Parmureli realizzati e donati a Papa Francesco, Cardinali, Vescovi e ospiti sul Sagrato di San Pietro a Roma. Con la Domenica a diritto che da inizio alla Settimana Santa si è rinnovato ancora una volta l'antico privilegio di Capitan Bresca ottenuto nel lontano 1586 di fornire alla Chiesa di San Pietro i palmizi per le celebrazioni pasquali. Vediamo. 2.000 Parmureli di Sanremo hanno raggiunto il Vaticano in occasione della Domenica delle Palme. Si è rinnovata così per la Santa Pasqua e per la celebrazione del rito liturgico della Passione del Signore la tradizionale consegna dei Parmureli che sono stati donati al Santo Padre Francesco al Papa Emerito Ratzinger, Cardinali e Vescovi oltre che ai fedeli presenti sul Sagrato di San Pietro. Il dono dei Parmureli al Santo Padre è un'iniziativa promossa nel 2003 dal Centro Studi e Ricerche per le Palme e dalla Cooperativa Sociale Il Cammino di Sanremo. Come vuole la tradizione, i Parmureli inviati a Roma attraverso la Diocesi 20.000 Sanremo e la Cooperativa Il Cammino sono realizzati ad uno ad uno dai maestri intrecciatori che con grande abilità lavorano le giovani e bianche foglie di palma preparate per l'occasione. Nel 2014, inoltre, il Comune di Sanremo ha riconosciuto ai Parmureli Sanremaschi l'iscrizione al registro di eco prodotto di denominazione comunale di origine. Quella dei Parmureli è un'arte che ha saputo trasformarsi in passione e un insieme di tecniche e operazioni di intreccio che generazioni di famiglie hanno tramandato da padre a figlio. L'antico sapere viene oggi insegnato e divulgato anche attraverso scuole di intreccio che organizzano specifici corsi per l'apprendimento delle tecniche più tradizionali. I Parmureli non hanno solo valore ornamentale ma anche un profondo significato religioso. continuano infatti a portare un messaggio di gioia, di pace e di speranza ricordando l'ingresso triunfale di Gesù nella città di Gerusalemme. Con la Domenica di Rito, che da inizio alla Settimana Santa si è rinnovato ancora una volta l'antico privilegio di Capitan Bresca ottenuto nel lontano 1586 di fornire alla Chiesa di San Pietro i palmizi per le celebrazioni pasquali. Presenti a Roma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Claudio Littardi del Centro Studi e Ricerche per le Palme e Sergio Derda, presidente della cooperativa Il Cammino. La consegna dei Parmureli è motivo di vero orgoglio per la città di Sanremo. Promuovere l'antica tradizione dell'intreccio e dell'invio dei Parmureli in Vaticano è anche un'operazione di grande valore storico e culturale. Ed ora facciamo una piccola pausa fra poco con altre notizie ed altri servizi. domani sera alle ore 20 e 30 presso la sala San Carlo di Albenga in via Roma 56 si terrà un incontro dal titolo Via le Auto Liberi Leoni. All'appuntamento interverranno Pierfranco Quaglieni, Domenico Gaia e Gianni Ballabio. Previste anche letture di Roberto Bani. Durante la serata si parlerà anche della tutela del Centro Storico di Albenga e della presenza delle autovetture. In occasione della giornata mondiale dell'endometriosi lo Zonta Club di Imperia ha organizzato un convegno dedicato a questa malattia che colpisce le donne. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sempre di più sul tema della prevenzione. Il servizio. Alessandra Brunengo è la Presidente dello Zonta Club di Imperia, un'iniziativa rivolta alle donne, rivolta alla salute. È un tema molto importante anche per la prevenzione, voglio dire. Soprattutto, sì. Siamo qui all'auditorium della Camera di Commercio oggi, 28 marzo, che è la giornata mondiale dedicata all'endometriosi. Ha questa patologia particolarmente grave che riguarda addirittura in Italia 3 milioni di donne. E per fare in modo che questa patologia venga in qualche modo riconosciuta e si possa lavorare su questa patologia, abbiamo deciso proprio ad Imperia di organizzare questa tavola rotonda. Io sono la Presidente dello Zonta Club, che è un club femminile che si rivolge alle donne. E poi questa iniziativa è stata fatta in collaborazione con il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana del Comitato di Imperia. Abbiamo i nostri relatori che hanno cortesemente deciso con entusiasmo di collaborare a questa iniziativa, che sono il professor Franco Gorlero dell'Unità Ospedaliera del Galliera di Genova, il dottor Alessandro Fasciani, specialista sull'endometriosi, sempre del Galliera di Genova, la dottoressa Roberta Parodi, psicologa e sessuologa, che ci aiuteranno in questo percorso su questa malattia, in modo che possa essere in qualche modo veramente riconosciuta, specialmente dalle giovanissime generazioni. Professor Gorlero, l'endometriosi è una malattia che riguarda le donne, un momento di discussione, vuol dire anche prevenzione, per quello che è possibile? Beh, naturale. L'endometriosi è una delle malattie più frequenti del mondo al femminile, che colpisce donne prevalentemente giovani. Spesso è una patologia non diagnosticata e non riconosciuta, che può dare dei problemi importanti, sia in termini di qualità di vita o di riproduzione, oppure di patologie che necessitano poi di interventi chirurgici, per cui è una malattia che è stata dichiarata come una malattia sociale recentemente, e quindi è necessario che ci sia un impegno continuo e costante, diagnostico, di attenzione, di organizzazione anche del territorio, dei consultori, di preparazione, per diagnosticarla e trattarla correttamente. Ecco, lo Zonta Club parlava di dover riconoscere questa malattia a tutti gli effetti, perché che cosa manca? Beh, è una domanda difficile, perché può mancare un po' di cultura generale, anche se è cresciuta in questi ultimi vent'anni, perché si conosce molto di più dalla patologia, però a tutt'oggi rimangono ancora dei punti da chiarire, e quindi lo sforzo anche accademico delle società scientifiche e degli operatori è proprio nel cercare di poter diagnosticare precocemente e di trattarla nel modo migliore. Ringrazio il professor Gorlero, che è insieme al suo validissimo collaboratore, che è il dottor Fasciani, che si occupa specificatamente di endometriosi. I casi sono responsabili appunto di questo centro diagnostico del Galliera. I casi sono molti qui, soprattutto in Miguri. Sì, i casi sono molti. Noi vogliamo essere presenti oggi, oltre agli altri 364 giorni dell'anno. Penso che occorra molto equilibrio, quindi non generare il terrore, ma accoggersi subito se qualcosa non va. Non esiste ancora purtroppo la cura, infatti il professore ha parlato di trattamento, perché non conosciamo la causa. Questo è un aspetto, secondo me, molto importante, che ci deve vedere tutti insieme pronti a cercare di capire di più dei meccanismi. E di lavorare molto anche nella ricerca. Anche nella ricerca, sì. Noi siamo impegnati da anni e cerchiamo piano piano di essere presenti da un punto di vista diciamo clinico, ma sempre di più anche da un punto di vista di ricerca. Grande spettacolo nelle fine settimana di Imperia per il Fox Urban Downhill, con spericolati atleti che si sono sfidati lungo le strade tra il Parasio ed il mare. soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dal Comune per la riuscita dell'evento che ha richiamato molti appassionati e curiosi. Sentiamo. Iari Alassio, Odeventi, questa Urban Downhill veramente ha fatto il gran colpo. Bellissima giornata, tanto pubblico, gente contenta, direi anche poche lamentere, perché non mi sembrava che ci fosse un gran caos di traffico, ma tutto si è affilato liscio da tutti i punti di vista, no? Ma direi è andata alla grande. Io giuro, altro che la Grimuccia, c'è una fiumana di persone che scende giù, io non ci credo neanche, non è successo niente, non si è fatto male a nessuno, l'unico che ho portato all'ospedale è un ragazzo che ha avuto due punti al braccio senza scendere. Sono rimasto un po' senza parole, sono felice perché il tempo ci ha premiato e l'anno prossimo, 2016, sarà direi, oh, non lo dico, però potrebbe essere marzo 2016, grazie Maurizio Giordana che mi sta sempre dietro e mi supporta. 2016 dovrebbe essere marzo, perché marzo piace come data per la Downhill, non ci sono particolari date importanti. Ecco c'è un fatto Iari che sembra che tu a differenza dei corridori che l'hanno fatto un paio di volte tu l'abbia fatta 12-20 volte questa discesa da come sei provato. Lo dico, è una settimana che dormo due ore e mezzo per notte, ma è più lo stress che il resto, quindi la mia stanchezza è lo stress, però ora sono, ora mi addormento come minimo perché sono talmente rilassato che è bello, bellissimo, non ho veramente parole. Un grandissimo testimonio a Nick Dutto che ha veramente anche qui mandato in visibilio la folla, grandi applausi, una festa per tutti, anche per coloro che non hanno passione alla bicicletta, credo che oggi lo siano diventati per caso. Ancora più di là della Milano Sanremo perché io Nick l'ho visto, è sceso per i giardini di Villa Carpeneto, ha veramente dato tutto quello che poteva dare, in sicurezza perché il pubblico si è comportato bene, ora è finita, un po' mi dispiace che sia finita, però dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Pensa già all'anno prossimo, ci stai già pensando, ci state già lavorando mentalmente? Ci sto già lavorando, vedo già un importante upgrade sull'Aurelia e sicuramente lo dico, cioè per me deve essere, la deviazione del traffico deve essere diversa perché io i pericoli per le macchine, per i pedoni, per i ciclisti ne ho visti parecchi, però è andata benissimo quindi non ne parlo neanche. Facciamo tesoro delle cose per fare meglio il prossimo anno, mettiamola così. Assessore Paolo Strescino, allora come è andata? Mi sembra che il bilancio sia positivo, anche quello che si pensava per il traffico è stato superato brillantemente, direi. Beh, io direi di sì, a parte qualche ovvio intoppo, ma insomma una manifestazione come questa, l'avevamo detto, che blocca di fatto l'arteria primaria della città, non può che portare dei disagi, ma cerchiamo di guardare insomma le cose positive, che sono quelle della presenza di tanti atleti, di grande livello, un vincitore di rango assoluto, atleti da fuori Italia, da tantissime regioni del nostro paese, i bar pieni, i ristoranti pieni, quindi un bello spettacolo per chi lo ha guardato e quindi credo ci siano dei più dati positivi che negativi. È andata bene anche la giornata, che ci ha assistito come tempo, anzi forse è il primo vero ingresso verso la primavera direi oggi. Beh sì, siamo stati fortunati iari perché fosse stata la scorsa settimana ci sarebbero stati dei problemi, direi di sì, inizia una stagione estiva, primaverile estiva, con una serie di eventi importanti. La Urban Downhill d'Imperia è diventata credo una di quelle manifestazioni che vanno sviluppate e su cui vanno impegnate nei limiti delle possibilità dell'amministrazione e delle risorse perché sono queste manifestazioni che sportano in maniera positiva a nome di Imperio. Signor Carlo Capacci, una manifestazione stavamo dicendo che veramente ha unito anche le famiglie, vediamo una marina, ecco oggi possiamo dire che veramente si prepara che sta già guardando all'estate. Sì, guarda all'estate e guarda al futuro perché comunque noi come amministrazione intendiamo perseguire l'obiettivo del turismo e di Imperia città dello sport e quindi questo è uno dei tanti ingredienti che stiamo mettendo in campo per raggiungere questo obiettivo ovviamente questo tipo di evento fa bene anche alle famiglie perché magari vengono le famiglie a vedere i figli che affrontano questa pazza discesa pazza lo dico perché io sinceramente non la farei però magari chissà potrei anche riprovare non so dicevo del parasio e quindi è una giornata di festa è l'anteprima di onestate che speriamo sia fruttuosa sia dal punto di vista del numero dei turisti che verranno qua sia dal punto di vista del ritorno economico sulla città che è quello che diciamo preoccupa nel senso che cerchiamo di creare occasioni per far sì che aumenti e quindi di conseguenza che chi lavora chi ha attività possa superare un periodo di crisi del paese dell'Italia della nostra città e magari creare anche nuove opportunità di posti di lavoro sinergia con le associazioni cittadine che ancora una volta hanno dimostrato di avere grande grande voglia di fare sì io ringrazio tutte le associazioni perché lo dico sempre lo ripeto ancora questa volta il comune senza il contributo fondamentale delle associazioni non sarebbe in grado di organizzare eventi di questo tipo lo dico molto sinceramente e quindi vi ringrazio grazie a tutti comunque io penso che siamo una città siamo tutti cittadini e quindi tutti insieme abbiamo un obiettivo comune quello di far crescere la nostra città ed ora entriamo all'interno della gara andiamo a sentire il vincitore e la pripista che ha dato il via alla competizione e c'è anche Nicola Dutto Mister Dutto per seguire questi ragazzi in questa down hill in moto un simbolo di questa manifestazione di questo evento sicuramente un grandissimo testimonio allora com'è andata questa giornata? beh guarda nel migliore dei modi innanzitutto il tempo che ha accompagnato le manifestazioni off road fa la parte principale il percorso è stupendo inedito io mi sono divertito tantissimo mi piace stare in mezzo comunque ai ragazzi che arrivano anche da altre discipline è stupendo tutto sotto ogni aspetto è un grande segnale di spirito da parte tua credo che sia una forza che stai trasmettendo a tutti in questo evento davvero eccezionale beh ti ringrazio io non la vedo così mi sento alla fine di essere tornato a fare quello che facevo prima però sento il calore della gente quando scendo è da pelle d'oca bellissimo grazie grazie per questa presenza speriamo di rivederti sempre più spesso anche qui in pene che ci siano eventi appunto per i giovani di sport e per tutte le persone perché mi sembra che abbia coinvolto un po' tutti un po' tutte le famiglie sì perfetto se ci sarà un'altra occasione ci sarò sicuramente grazie a tutti ed ecco il vincitore assoluto della Fox & Urban Downhill Carlo Gambirasio tra l'altro ci ha detto ieri che sei stata un po' alla sua spalla anche l'ideatore un po' insieme a lui di questo evento folle divertente lo posso chiamare così? assolutamente sì devo dire grazie a Iari che ha messo in piedi tutta questa fantastica manifestazione è stato un evento che è nato un giorno su un furgone quando lui mi ha detto io organizzo eventi ma si potrebbe fare qualcosa con la bici dopo sei mesi mi ha chiamato proponendomi questo evento a Imperia l'anno scorso come prima edizione è stato un successo incredibile sono contento che Iari abbia trovato anche in Fox uno sponsor interessante che ha supportato questo evento questa seconda edizione direi perfetta si è vista dal pubblico dai partecipanti sono tutti contenti quindi aspettiamo la terza edizione al di là del fatto che hai raggiunto il primo gradino del podio ma la cosa più importante ti sei divertito assolutamente sì soprattutto mi sono divertito la vittoria è venuta con molta fortuna perché ho vinto per un solo centesimo però queste sono le gare e credo che tutti i 200 partecipanti della manifestazione si siano divertiti anche oggi un commento su questo percorso urbano e storico perché insomma siamo partiti proprio dal palazio centro storico per arrivare fino alla Marina direi storico e anche unico perché non capita tutti i giorni di arrivare a 50 metri dal mare quindi un percorso bellissimo alla portata di tutti perché molte volte ci si trova a gareggiare in percorsi un po' impegnativi ma invece quello di oggi è un percorso facile semplice ma allo stesso tempo che ti metteva alla prova ed ora andiamo a vedere come la situazione è lungo l'autostrada di Fiori questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 di competenza Savun a confine di Stato da lunedì 30 marzo a mercoledì 1 aprile in direzione Francia careggiata a nord tra Imperio Ovest ed Arma di Taggia careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì 30 marzo a mercoledì 1 aprile anche notturno in direzione Genova careggiata a sud tra Arma di Taggia ed Imperio Ovest cambio di careggiata per adeguamento sismico del viadotto Prino da lunedì 30 marzo a mercoledì 1 aprile anche notturno nell'ambito dei lavori al viadotto Prino resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Imperio Ovest per i veicoli provenienti da 20 miglia fino alle 18 di mercoledì 1 aprile salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori le previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria la previsione per domani martedì 31 marzo giornata in prevalenza soleggiata con la formazione di qualche addensamento sia tra Genova e Savona sia sullo Spezzino dove si estenderanno anche all'interno proprio sull'entroterra di La Spezia si potranno avere in serata deboli piogge sparse venti deboli o moderati dai quadranti meridionali dalla serata forti settentrionali mare al mattino mosso a Ponente molto mosso a Levante dal pomeriggio in aumento umidità sui valori alti mercoledì giornata di sole grazie all'espansione dell'alta pressione e alle correnti nord-occidentali quest'ultime però portano un sensibile calo delle temperature venti moderati dai quadranti settentrionali localmente forti al mattino in attenuazione dal pomeriggio mare molto mosso in calo soprattutto a Ponente umidità sui valori bassi avvisi di protezione civile nessuna e con questo proprio concluso vi ringrazio di essere stati con noi buona serata a a a a a a a a Grazie per la visione!